buongiorno al maestro maurizio torelli direttore dell'istituto ostiano di ortona l'emergenza covid impone la chiusura di teatri così come degli altri luoghi deputati alle iniziative musicali non solo in merito a questo argomento quali sono le iniziative che ha previsto l'istituto per la fruizione dei concerti e quest'anno purtroppo abbiamo dovuto cambiare totalmente la nostra programmazione quindi sia le master class che le mostre che concerti fatti dal vivo purtroppo sono tutti saltati come ben sapete allora ci siamo trovati davanti a un video o fermarci o fare qualcosa online abbiamo preferito di fare una programmazione online che comprende sei concerti chiamiamoli incontri musicali non proprio concerti e due documentari uno su una mostra molto interessante note banconote e sugli spartiti di tosti e sulle tecniche di vendita degli editori della fine dell'ottocento e poi un tour virtuale del nostro museo in questa maniera i nostri amici o altre persone possono vedere e sentire le nostre produzioni ovviamente speriamo di ritornare il più presto dal vivo i sei concerti chiamati incontri musicali 2020 prevedono appunto sei incontri con degli artisti di fama internazionale sia giovani ma anche ormai già che frequentano da tanto tempo i palcoscenici quattro sono prodotti direttamente da noi qui dal nostro istituto con artisti italiani invece due essendo il nostro istituto di respiro internazionale arriveranno dall'estero uno esattamente da sofia dalla bulgaria ed è un concerto molto particolare per il luogo soprattutto perché la sala da musica della casa museo di boris christoph uno dei più grandi bassi che ci siano mai stati nella storia della lirica appunto nativo di sofia e un altro invece dal sota school of the arts di singapore una scuola di musica che ha voluto proprio accettare di buon grado di far partecipare i propri allievi in questa esibizione è un istituto che poi ci ha chiesto anche di collaborare nei prossimi anni con delle masterclass con degli incontri dei convegni e quindi rimanendo appunto con questo spirito internazionale e con quest'occhio alla nostra produzione vi presenteremo questi sei concerti che inizieranno il primo domenica prossima il 18 avranno una cadenza settimanale sempre di domenica invece gli altri due incontri il lotto di dicembre ci sarà il tour del museo e il 10 di dicembre la mostra il tutto sarà su un canale youtube che si chiamerà istituto nazionale tostiano ma tutti i riferimenti possono essere trovati sul nostro sito oppure sulla nostra pagina facebook spero che abbia che questa nostra programmazione abbia gradimento mi dica come sarà per voi ecco questo nuovo approccio quale quale impressione avete avuto anche dai musicisti che si si beranno in questa nuova forma ecco sì è stata è stato un lavoro molto duro soprattutto per i musicisti anche perché abbiamo fatto una scelta è lei che fa questo lavoro mi capirà subito abbiamo fatto la scelta di registrare questi incontri con una sola telecamera impresa diretta come se fosse direttamente un concerto quindi senza due o tre telecamere senza senza fare dei film questo perché per rendere più più semplice cioè proprio più naturale la la realizzazione di questi incontri anche se possono esserci delle piccole come dire il rumoretto di fondo oppure la piccola nota che può sfuggire in un qualsiasi concerto anche grandissimi musicisti questo ha creato appunto molta attenzione negli esecutori perché sapevano che avevano una registrazione basta e quindi però devo dire che si sono comportati benissimo il primo dei concerti sarà del maestro adriano paulini che è un piccolo resital per pianoforte solo il secondo invece sarà perso l'arpa a una bravissima arpista giovane che ha vinto tantissimi concorsi e ha lavorato in tantissimi teatri anzi continua a lavorare in tantissimi teatri italiani sia marzetti poi faremo un concerto il terzo concerto arriverà appunto da sofia ed è quello più tostiano di tutti è il concerto classico per voce e pianoforte con tutta la produzione da camera cioè tutta con una programma tutta produzione vocale da camera dell'ottocento donizzetti e francesco paolo tosti poi è un concerto molto interessante anche perché abbiamo voluto spaziare un concerto con musiche del novecento per tuba e pianoforte uno strumento po particolare di due giovani musicisti con un repertorio decisamente particolare ai più e poi chiuderemo cioè avremo il concerto da singapore sempre per pianoforte o pianoforte e voce degli allievi del sota come appunto vi dicevo e concluderemo con una piccola chicca non so se lei sa ma i nostri video spettatori sanno che quest'anno ad ortona si ricorrono i cento anni della nascita della maggiolata la maggiolata che era il concorso canoro come la piedigrotta napoletana in cui dei compositori presentavano canzoni dialettali e c'era una giuria che giudicava la migliore canzone dell'anno e allora per questi cento anni abbiamo chiesto all'assemble vocale della compagnia dell'alba diretta da gabriele de guglielmo abbiamo chiesto di fare un incontro su musica popolare di tosti e autori nostri popolari quindi abbiamo albanese di orio se non ricordo male ed altri delle nostre canzoni quindi chiuderemo proprio con una bruzzesità totale senta per concludere vogliamo ricordare come si svolgeranno questi tour virtuali di cui parlava sì allora il tour sul museo è una visita noi siamo facciamo parte della rete dei musei d'abruzzo siamo riconosciuti dal ministero dei beni culturali e abbiamo in pratica la ricostruzione abbiamo due sale che formano il nostro piccolo museo in una è la ricostruzione fedele abbastanza fedele della del salotto di francesco paolo tosti che è stato desunto da delle fotografie dell'epoca e l'altra invece è una sala in cui ci sono tantissimi spartiti inviti oggetti il sigillo vivi e lascia vivere questo era il motto di francesco paolo tosti su un sigillo di cristallo e quindi tutto ciò che era parte del del nostro grande compositore è un museo molto interessante quindi vi faremo fare questo viaggio per appunto per per farvelo conoscere e sperando che un domani veniate direttamente ortona nel nostro splendido palazzo corvo che è vicino al castello quindi una posizione bellissima veniate a vedere tutto dal vivo benissimo vogliamo ricordare il sito internet dedicato del museo sì il nostro sito è www come si dice istituto nazionale tostiano punto it o punto org a questo punto non mi rimane che ringraziare i miei due validissimi collaboratori che hanno permesso la realizzazione di tutto questo che è la vice presidente dell'istituto nazionale tostiano diana de francesco è il nostro collaboratore bibliotecario archivista conservatore e gianfranco miscia a loro veramente un grande grazie da parte mia